Radio Radicale, siamo con la senatrice Simona Malpezzi per parlare nuovamente della scuola di Pioltello perché oggi c'è stata un'interpellanza in aula al Senato in cui lei è intervenuta su questo. Credo che il giorno di sospensione c'è stato, credo ieri se non sbaglio, come lei ha correttamente detto in aula stamattina. Quando ci eravamo sentiti era appena scoppiato il caso e poi successivamente è intervenuto anche Mattarella. Come ha trovato sia l'intervento di Mattarella che l'atteggiamento delle istituzioni scolastiche? Intanto il presidente Mattarella ha liquidato l'episodio come di modesto rilievo perché in realtà era molto più interessato a valorizzare il bel lavoro di integrazione che questa scuola, come tante altre in Italia, stanno facendo nonostante magari la mancanza di risorse e di attenzione. Quindi è stato un grandissimo segnale di vicinanza quello del presidente alle scuole che lavorano in quelle situazioni e che praticano l'inclusione quotidianamente. Rispetto all'interpellanza, alla posizione che ha portato avanti il ministro Valditare, figlia di un'ispezione fatta in maniera velocissima e che non ha rilevato errori se non nella questione di numeri di giorni risolta è il Consiglio d'Istituto però ha deliberato nuovamente che il giorno di sospensione doveva coincidere per motivi organizzativi con quello della chiusura della scuola per il Ramadan e di conseguenza significa nulla di fatto, diciamo molto rumore per nulla. Molto rumore per nulla perché la scuola aveva ragione ma dall'altra parte però che è costato a quella scuola, tutta la comunità, ai bambini, al personale giorni di tensione con tanto distrescioni fuori dalla scuola accusatori, con attacchi alla dirigente, al dirigente scolastico, alla vicepreside, insomma molto sgradevole e cavalcata anche in chiave elettorale e alcuni europarlamentari della Lega che sono andati lì per far campagna, che postano i video con tanto poi del vota. Una cosa proprio brutta e sgradevole perché sulla pelle dei bambini non si dovrebbe fare propaganda. Oggi chi è venuto a rispondere? Non è venuto il ministro purtroppo, io devo ringraziare la sottosegretaria Frassinetti che ci ha messo la faccia su una questione però che è stata sollevata notevolmente dal ministro Valditara che aveva anche attraverso tweet e tutti i social e interviste e anche criticato la scuola per i risultati invalsi, cosa non vera tra l'altro. La sottosegretaria Frassinetti ha detto le cose che abbiamo sentito dire da Valditara all'indomani dello scoppio della polemica e dopo la telefonata di Mattarella perché la cosa è stata anche abbastanza sgradevole perché si era parlato di quote ci devono essere classi di maggioranza italiana. No, no, non ha toccato questo argomento, la risposta all'interpellanza era semplicemente il fatto che l'ispezione aveva verificato che nella formulazione del calendario scolastico c'era l'utilizzo di un giorno in più e l'anticipazione dell'inizio della scuola che rischiavano di creare dei problemi per cui si invitava a rivedere la delibera ma non c'era niente sulla materia e sull'argomento tanto che alla fine la scuola ha mantenuto il giorno di chiusura con il ramalano. La vicenda secondo lei ha messo in discorso il principio di laicità dello Stato e della scuola? No, la vicenda è una vicenda che ha una pura finalità nata da una questione di natura organizzativa. Il resto non c'entra, lasciamolo da parte perché ho anche fatto l'esempio che una scuola di Desenzano che le scuole di Desenzano chiuderanno alla fine di maggio perché c'è il Giro d'Italia. Come la vogliamo dire questa cosa? Che allora chi pratica sport, altri tipi di sport si deve sentire penalizzato? No, è una questione di opportunità. In quel momento si rischia di avere le classi vuote perché i ragazzi fanno fatica ad arrivarci a scuola perché ci sarà chiuso il percorso vista la presenza del Giro d'Italia e la scuola cerca di utilizzare una visione più pratica e organizzativa, né più né meno. Senta, ha avuto l'impressione che gli esponenti della Lega fossero intervenuti sulla questione per fare un dispetto a Mattarella dopo che aveva fatto la telefonata? Ma questo io non posso dire, so che comunque sono stati sconfessati anche dalla loro stessa maggioranza perché hanno presentato una mozione in Consiglio regionale in Lombardia, dove chiaramente loro sono in maggioranza e governano e la mozione con l'autosegreto non è passata. Quindi io ho qualche domanda sul fatto che la Lega abbia voluto cavalcare una battaglia nella quale non credevano neanche gli altri, me la farei se fossi loro. Va bene, io ringrazio la senatrice di Pioltello, Selimona Malpea. Io sono orgogliosa di Pioltello, davvero, orgogliosissima. Grazie alla senatrice Simona Malpezi del Partito Democratico.